Lo spettacolo del corteggio storico esercita sempre tutto il suo fascino. Nelle vie del centro di una prato vestita a festa, i figuranti in costume e gli sbandieratori hanno preceduto il momento clou della serata, l'ostenzione della reliquia mariana della sacra cintola. L'appuntamento per il comune pratese è utile a rinsaldare i rapporti di amicizia con i comuni gemellati. Ad incontrare il sindaco Matteo Biffoni c'era la delegazione tedesca di Wangen e l'immancabile comune cilentano di Centola, la cui delegazione era guidata dal primo cittadino Carmelo Stanziola. Ho avuto anche il piacere di avere i miei concittadini del centro sociale a cui ho inteso tramandare questa idea di progetto che si è immaginata oltre 20 anni fa di gemellaggio e la soddisfazione più grande è vederli ieri sera al corteggio entusiasti, quindi hanno incominciato ad apprezzare quello che è questo patrimonio, questa ricchezza di prato attraverso la sacra cintola, attraverso il corteggio che noi riproponiamo a Palinuro il 23 di settembre. Uno scambio che affonda le radici nei tanti cittadini diventati poi pratesi che da sud negli anni si sono spostati verso la città laniera in cerca di lavoro. Più di recente invece tanti i pratesi che hanno scelto la località cilentana per trascorrere le proprie vacanze. D'altronde il simbolo di centola è l'aratro che solca il mare e il mare è quello ben noto di Palinuro, racchiuso all'interno di quel gonfalone che ha sfilato per le strade pratesi prima dello spettacolo pirotecnico finale.